veniamo un po al bicchiere allora questo è il famoso saten allora giusto per curiosità dopo dieci minuti più o meno più o meno dieci minuti questo è il suo perlage quindi tutto sommato direi un buon perlage vedete quarto d'ora allora valutiamo la bolla prima sicuramente la bocca lega regala questa bella piacevole sensazione di appunto di cremosità di larghezza la bolla è ben intensuta nel vino quindi piacevole anche la sensazione di freschezza acida e anche sapidità sul finale quindi tutto sommato devo dire che fa solo 24 mesi e quindi non aspettatevi un prodotto di chissà quale complessità questo francia corta che lavora tutta sulla piacevolezza sull'immediatezza sulla facilità di lettura se cercate le ultra complessità non è questo il vostro in francia corta ma se cercate un francia corta piacevole immediato e di soddisfazione immediata secondo me questo qui non è uno di quei francia corta cerebrali dove devi stare lì devi pensare questo veramente te lo godi anche al naso il naso ha questa bella sensazione di frutta di frutta gialla sensazione di lievito sensazione di di pasticceria si nota la crema si nota anche una sensazione che ricorda un po la vaniglia le spezie dolci quindi tutto sommato intensità persistenza al naso pulizia devo dire un prodottino che attenzione questo prodotto che costerà tipo 23 24 euro una volta che ha valutato la bolla al palato lo puoi anche stressare chiaramente facendo così vai a perdere la bolla ma non ci interessa puoi capire eventuali altre sfumature non dandolo un po a violentare in questo senso chiaro che così hai perso la bolla a noi adesso ci interessa il bouquet una conferma e piacevoli questa nuova su un tur si ricorda ci sono anche dei sentori di tipo di albicocca quindi vi dirò quando avete dei vini spumanti prima valutate la bolla poi girateli se proprio li volete strassare volete che volete andare fino in fondo ma noi io lo faccio per una questione anche di lavoro a capire altre cose ma se dovete bere divertirvi non fate questo per vini spumanti non lo fate a casa comunque a me questo è piaciuto saten cade ai pazzi